Musica Ma Lucia, dov'è? Benzino, non lo so, dovrebbe arrivare tra poco comunque, dai Io ti vedo teso per il matrimonio, sei teso per il matrimonio, te lo leggo nella palla degli occhi Ma non è che sono teso per il matrimonio? Però ieri mi è successa una cosa, te la posso raccontare? Ma Marino, se non raccontiamo chi la racconta? Eh, stavo a riordinare il garage Al garage, donna pulitina, donna pulitina, donna pulitina Al garage, donna pulitina, donna pulitina Oh ma questa è una lampadina e io gli do una pulitina Ah, hai svegliato il magico genio della lampadina Ora dovrai esprimere un desiderio Ma attento Potresti usare il desiderio per scopi filantropici Come ad esempio eliminare la fame nel mondo E tu che cosa gli hai chiesto, eh? Ma... Amore, amore È un miracolo, è un miracolo Stamattina mi sono svegliata con due tette della madonna Cioè, per me è una quinta Oh, Renzo Alla fame nel mondo Ci penserà qualcun altro, eh? E tu che cosa gli hai chiesto, eh?